Sono 2001 le imprese toscane che riceveranno 124 milioni di euro di finanziamenti a fondo perduto dalla regione toscana per i due bandi di settembre relativi a nuovi investimenti. Il punto sulla situazione delle domande è stato fatto dal presidente della regione Eugenio Gianni, dall'assessore all'economia e al turismo Leonardo Marras e dal direttore di IRPET Stefano Casini Benvenuti. Le aziende operano nel settore manifatturiero del turismo e del commercio. In un pomeriggio immediatamente 2.600-2.700 per l'uno e altre centinaia per l'altro sono state le imprese che hanno risposto. Poi una rigida selezione, sono alla fine 2001 i piccoli e medi imprenditori toscani che riceveranno questo contributo. È il successo di un'iniziativa che lega il momento critico alla volontà di investire. Il primo bando prevede contributi alle imprese che da febbraio hanno sostenuto o sosterranno investimenti materiali o immateriali. Per questo bando sono stati erogati 114 milioni di euro. I restanti 10 sono destinati al secondo bando dedicato a microinnovazione e digitalizzazione. Questi finanziamenti andranno a sostenere investimenti per oltre 261 milioni di euro. Io penso che il ruolo della regione debba proprio essere questo, quello di accompagnare il più possibile in questa fase di resilienza la ripresa e quindi sarà necessario calibrare bene nel futuro questo ruolo, proprio perché il ristoro, cioè il mancato reddito delle imprese è talmente importante che solo lo Stato può intervenire adeguatamente. Sono state 3.000 le imprese che hanno fatto domanda, 200 quelle non ammesse mentre 976 sono state accolte ma non ancora finanziate e prevedono finanziamenti per 53 milioni di euro.